Accorpare la AS di Teramo con la AS dell'Aquila secondo me è una pazzia. Se l'obiettivo è il risparmio, secondo me non c'è nessun risparmio da questo punto di vista. Anzi, forse il risparmio invece ci potrebbe essere se invece di agire sulla struttura aziendale si agisce sulla rete ospedaliera. Allora è meglio portare avanti, io sono favorevole a un ospedale unico per quanto riguarda il territorio provinciale di Teramo. Cioè fare un ospedale unico a norma in una sede equidistante dai territori, anche in considerazione del fatto che l'AS di Teramo in questo momento spende diversi milioni di euro per far fronte al fatto che nei nostri ospedali ci sono delle carenze, anche di tipo strutturale, sono ospedali molto vecchi. Basta guardare quello che è accaduto nelle Marche, le Marche sono partite con questo processo di accorpamento e adesso stanno tornando indietro perché si sono resi conto che non funziona. Il territorio Teramano e il territorio Aquinano sono diversi, nessun direttore generale potrebbe avere contezza e consapevolezza di cosa accade nel territorio Teramano, nel paese più lontano del territorio Teramano. Cioè la sanità è una cosa seria, è un bisogno dei cittadini, va garantita a tutti i costi e io credo che con questo accorpamento non si raggiunga l'obiettivo. Io su questo farò la mia battaglia, mi fa piacere che oggi anche il consigliere Mariani sia espresso favorevolmente, spero che nei prossimi giorni altri rappresentanti politici di questo territorio, di destra, di sinistra, di centro, si esprimano su questo argomento.